Ben tornati a tutti. Oggi è lunedì, 23 settembre 2024. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di oggi. Ariete. Cari Ariete, chi vuole parlare d'amore e nel corso delle prossime ore di questa lunedì 23 settembre 2024 sarà favorito. Venere non sarà più contraria da domani, lunedì. Giove sostiene nel lavoro. Sarete pronti ad affrontare tutto in maniera energica. Piccoli malumori in famiglia oggi non turbano il momento di notevole positività che caratterizza il vostro cielo. Giove, Nettuno, Saturno e Urano sono tutti dalla vostra parte. Uno sprint vi accompagna in ogni settore della vostra vita, in particolar modo sarà favorita la carriera. Avvenimento dierno è l'equinozio d'autunno nel punto dello zodiaco opposto al vostro sulla ruota astrologica, il segno della bilancia alle ore 14 e 45. Questo quadro astrale vi permette di sciogliere e chiarire di sapori, di rimere eventuali fraintendimenti. In generale oggi vi attende un quadro di armonia nel fisico e nell'umore, per merito di alcuni corpi celesti ben disposti, con l'eccezione del Sole, Marte e infine, di Plutone. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 7, finanze, 9, benessere, 7. Toro. Cari Toro, state vivendo una situazione generale che invita l'amore, ai sentimenti in generale. Quello che state vivendo sarà un fine settimana di fine settembre che vi farà riflettere sulle cose. I cambiamenti sul lavoro possono essere sconcertanti, ma anche fantastici. Saturno, nel segno amico fidato dei pesci, molto positivo specie se siete nati in maggio, vi dona una salute strepitosa e una bellezza che è sempre in fiore, anche se siete un po' avanti negli anni. Guardatevi, però dagli eccessi ed onistici come la buona tavola e il piacere del vino, che possono contribuire ad arrotondarvi un poco. Tenete anche in esercizio la mente con le vostre fertili letture. E con questo sarete di già a metà dell'opera per ottenere uno stato di salute ottimale. Il resto lo faranno le vostre adorate lunghe camminate. Mattinata super con un trigono di terra che mette in gioco Plutone in capricorno, la luna con urano nel vostro segno e sole in vergine. Saranno proprio questi due a cambiare rapidamente le carte in tavola e le sfumature del vostro umore. A mezzogiorno infatti la bianca signora passa in gemelli e invitandovi a pranzo fuori vi fa spendere un botto. Poco più tardi è la volta del sole di cambiare segno e stagione, con il suo passaggio in bilancia infatti inizia ufficialmente l'autunno, riconfermato, se per caso non voleste intendere, anche da venere nella vostra sesta casa, in quadratura a Plutone. Il pensiero dunque corre subito al lavoro, se poi siete di turno o avete un progetto da sviluppare non perdete altro tempo, gambe in spalla e mettetevi all'opera. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 10, finanze, 8, benessere, 10. Gemelli. Cari gemelli, state vivendo un periodo favorevole, soprattutto se il cuore è libero. Se avete la testa libera. Per quanto riguarda il lavoro, conviene programmare tutto quello che c'è da fare. Ci sono ancora alcune vertenze rimaste aperte. Potrebbe sorgere qualche problema riguardante la casa. Pianeti benevoli vi allietano in questa lunedì dell'equinozio d'autunno che avviene alle ore 14 e 45 nel segno vostro amico fidato della bilancia. Gli astri, in linea generale vi aiuteranno in alcuni settori della vostra vita e vi freneranno in altri. Saturno è imbronciato dal segno dei pesci e vi obbliga a comprendere gli altri, a interagire con l'ambiente, a gestire al meglio situazioni complicate in famiglia e nelle amicizie. Nei progetti che avete messo in cantiere, dovrete pazientare. I pianeti impongono, da parte vostra, una programmazione attenta, specie se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 7, finanze, 8, benessere, 9. Cancro. Cari cancro, avete bisogno di un nuovo amore. State vivendo un momento positivo per un'attività creativa. Venere sta per togliere l'assedio. Ancora un po' di pazienza. C'è più ottimismo anche sul lavoro. Presto sarà il vostro momento. Inizio un po' sottotono per questa giornata dell'equinozio autunnale, con venere e il sole negativi in transito nel segno nemico, amatissimo della bilancia, ma si conclude poi positivamente. Alcune incomprensioni i familiari avranno bisogno di qualche giorno per potersi chiarire e risolvere definitivamente. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 5, finanze, 6, benessere, 5. Leone. Cari leone, dovete evitare di gettare benzina sul fuoco. Non è proprio il momento giusto. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero sorgere dei piccoli problemi. C'è qualche dubbio di troppo per quanto riguarda la sfera sentimentale. Possono cambiare le strategie sul lavoro. Agite con la testa. I movimenti astrologici vi preparano un cielo abbastanza bello, quest'oggi non solo per il crearsi dell'equinozio d'autunno in un punto molto benefico dello zodiaco per voi, nel segno della bilancia, alle ore 14 e 45, ma anche per via di altre positività concomitanti. Tra queste quelle di sole e venere, che sempre dal segno di aria vostro alleato, la bilancia, lavorano affinché la vostra vita si assesti su binari di stabilità e serenità. I progetti che state portando avanti saranno infatti benedetti dalla buona sorte. Si prevedono in questo periodo matrimoni, convivenze, acquisti di beni immobili, il tutto fatto con grande oculatezza. Fate attenzione solo alla vostra caratteriale irrequietezza, che può a tratti disturbarvi, ma sapete tenere sotto controllo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 8, benessere, 10. Vergine. Cari Vergine, rischiate di andare incontro a qualche controindicazione, in particolare in amore. Durante le prossime ore di questa lunedì 23 settembre molti di voi potranno fare valutazioni equilibrate. Dovrete dimostrare quanto valete sul piano professionale. Coraggio. Rimboccativi le maniche. Plutone, Urano, Mercurio e Venere collaborano a rendere l'atmosfera di questa lunedì piacevole e armoniosa e i rapporti con i figli e i fratelli godono di un momento di grazia, i contatti tra moglie e marito sono all'insegna del dialogo e della solidarietà. Insomma il punto di forza della giornata è la famiglia. Una certa inquietudine nasce invece dai rapporti amichevoli e interpersonali, che risentono di qualche insoddisfazione creata da nettuno negativo, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 15 al 22 del mese di settembre. Gratificati da un buon tono muscolare, potete ritemprarvi dalle fatiche di questa giornata con le vostre belle passeggiate, magari in montagna. I frequentatori di palestre specie se appartenenti al cosiddetto sesso forte, scoprono di ottenere un fisico decisamente scolpito. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 6, finanze, 7, benessere, 7. Bilancia. Cari bilancia, molti di voi nel corso delle prossime ore di questa lunedì 23 settembre 2024 non avranno voglia di rimettervi in gioco in amore. Non è ancora il momento giusto. Per quanto riguarda il lavoro, sole nel segno, ci sono buone opportunità. Evento odierno è il magico equinozio d'autunno che avviene proprio nel vostro segno per la precisione alle ore 14 e 45. In questa configurazione molto positiva si accentuano i valori di determinazione, di tensione verso il successo per voi. Giove dai gemelli, infatti vi sostiene e lo stesso fa venere. Mercurio, dall'alleato segno della Vergine, invece, si occupa di mettere sulla vostra strada la buona fortuna, essenziale per farvi trovare di fronte a occasioni uniche. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 10, finanze, 8, benessere, 8. Scorpione. Cari Scorpione, attenzione, nel corso delle prossime ore di questo fine mese rischierete di arrabbiarvi in amore. Non dovete rinunciare a certi progetti. Venere porterà coniglio. Buone intuizioni sul lavoro. Previsione dei transiti molto soddisfacente e positiva. Dalla Marte a Saturno, da Nettuno a Mercurio, molti pianeti vi danno manforte. Certo, alcune difficoltà non mancheranno, ma spesso proprio queste sono il sale della vita. Galvanizzati dal transito di Plutone, uno dei vostri pianeti governatori, nel Capricorno specie se appartenete alla terza decade, vi sentite in grado di spaccare il mondo. L'armonia familiare oggi non vi manca e si rivela come una via tracciata, da percorrere, spediti. Cercate solo di non arrovellarvi per quello che ancora vi manca. Quasi tutti gli sport vi si adattano, ma di più quelli di squadra con forti elementi competitivi, specie se siete nati tra il 19 e il 22 di novembre. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, Attività, 7, Finanze, 7, Beneissere, 5. Sagittario. Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore di questo 23 settembre dimostrerete grande carattere in amore. Giove e Saturno consigliano di accontentarsi ogni tanto. Meglio sempre parlare chiaro in amore. Vi aiuterà nel lungo termine. La scena astrologica lunedì appare abbastanza equilibrata, vi si avvicendano aspetti positivi con altri meno belli, ma non drammatici per voi. Plutone in Capricorno oggi vi rende un po' più combattivi del solito, specie se della terza decade. E il sole vi sorride pure dalla bilancia, potrete puntare in alto, specie nel settore degli interessi economici e in quello delle ambizioni professionali. Venere vi regala inoltre una fase di calma e di moderata soddisfazione intima, per tutto quello che state facendo in questo momento se appartenete alla seconda decade. Per voi che amate inoltre lo sport e il movimento all'area aperta, avrete a disposizione uno sprint formidabile per divertirvi un mondo e sentirvi rinati e ringiovaniti. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 7. Finanze, 7. Beneessere, 6. Capricorno. Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore di questo fine mese, settembre 2024, dovrete stare più vicini al partner. Per quanto riguarda il lavoro, sarà difficile restare sereni, ma cercate di affidarvi a persone valide se volete risolvere un problema una volta per tutte. Sarete baciati da Saturno oggi che porta la serenità nel focolare domestico, riuscendo a conciliare le diverse anime presenti in casa, specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade. Un clima familiare molto confortevole vi attornia e vi consente di dedicarvi pienamente ai vostri affetti. E si annuncia un giorno settembrino abbastanza luminoso per voi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 9. Finanze, 6. Beneessere, 7. Acquario. Cari Acquario, cercate di pianificare un nuovo progetto lavorativo e non situazione delicata in amore. C'è chi vuole vivere con più serenità una storia. Bisogna stare attenti alle provocazioni. Mordetevi la lingua prima di dire qualcosa di cui potreste pentirvi amaramente. Lunedì con l'equinozio d'autunno che si svolge in una zona dello zodiaco per voi positiva, nel segno della bilancia segno in cui vi sostiene una splendida venere in aggiunta, a infondervi amabilità. In splendida forma vi immergete in attività che ritemprano corpo e mente. Se praticate sport acquatici come il nuoto, la vela o il canottaggio, giove, luna e sole non potrebbero esservi più amici. Vi dedicate ai vostri interessi più sentiti, come la danza e la musica. Nettuno, invece vi consente, specie se siete nati in febbraio, di conquistare una condizione di benessere psicofisico unito al piacere di divertirvi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 7, benessere, 10. Pesci. Cari pesci, molti di voi vivranno un fine settimana favorito dalle stelle e da venere. Le persone ispirate otterranno molto di più. Incontri promettenti. Attenzione solo al lavoro perché avere troppi impegni potrebbe soltanto causare preoccupazione inutile. L'equinozio d'autunno, che si verifica in un segno per voi idealmente favorevole, la bilancia, indirizza la buona sorte verso una strada di varie soddisfazioni, da verificare con mano. Ottima la capacità di comunicare il proprio pensiero, sia in ambito professionale che nel privato, Plutone, in Capricorno, molto positivo, vi rende abili nel comprendere gli altri e nel farvi capire, specie se nati dal 16 al 20 marzo. Seguite le vostre passioni sportive e non, il nuoto, la danza, il tennis, con disinvoltura. Il fisico ne beneficia in snellezza e agilità, la psiche ne risente nel buon umore. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 5, finanze, 9, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.